VACANZE PASQUA Ciao gentaglia, sono AsciutaHatesio e questo è Breaking Italy, lo show che vi è venuto a dare lunedì al venerdì nel quale parliamo di cosa succede nel mondo. Oggi apparentemente è davvero venerdì E la prima cosa della quale volevo parlarvi oggi sono le vacanze pasquali. Tutti contenti, arrivano le vacanze e spesso le vacanze di Pasqua sono proprio quelle che nelle coppie si passano separatamente. La Pasqua si fa in famiglia, poi la gente va fuori per Pasquetta con i propri amici e secondo un sondaggio condotto anonimamente sul sito AshleyMadison.com due su tre coppie soffriranno un caso di infedeltà pasquale perché apparentemente il tradire il proprio partner a distanza allevierebbe un pochino la sensazione di colpa. Quindi quale miglior modo di alleviare il più possibile la sensazione di colpa come andare lontano con i propri amici, cercare una veloce avventura per i motivi più disparati e poi ritornare all'ovile nella più classica delle marce della vergogna. E se invece avete intenzione di spingervi un po' più in là ritorniamo a parlare della nostra connazionale Valentina Nappi per lo stesso motivo per il quale ne avevamo già parlato ovvero Valentina starebbe organizzando la sua seconda gangbang social se vela foste persa, la precedente era stata organizzata in territorio partenopeo non mi ricordo esattamente dove, non so dove verrà organizzata quest'ultima perché sul suo sito non è abbastanza chiaro ma per chi non sapesse di cosa si tratta Valentina cerca aspiranti pornoattori e probabilmente due copie di virgolette non bastano usiamo quattro virgolette perché questi aspirati pornoattori sono semplicemente delle persone che hanno voglia di divertirsi con Valentina sono maggiorenni e hanno la possibilità di arrivare nel posto e pagarsi oltre al viaggio i controlli medici ma superate queste barriere possono partecipare al film slash alle riprese con la bella Valentina che poi metterà il video online gratuitamente per tutti quelli che volessero guardarlo e per tutti gli altri che dopo aver partecipato utilizzeranno questa cosa per fare colpo su qualche altra ragazza e dirle ehi ma lo sai che ho partecipato a un film porno funziona sempre, ve lo dico per esperienza e ora qualcosa di completamente diverso un servizio del Time mostra quello che le famiglie del mondo mangiano infatti il Time ha mandato in giro un fotografo per il mondo a scattare lo stesso tipo di foto a delle famiglie di ogni nazione possibile e immaginabile davanti a un tavolo pieno del cibo che normalmente non si può fare queste stesse famiglie consumano durante l'anno ed è molto interessante vedere le differenze ovviamente noi italiani ne usciamo molto bene perché notoriamente gli italiani prestano molta attenzione a quello che mangiano e infatti quella che state guardando adesso è la famiglia siciliana Manzo ma è possibile anche vedere la famiglia giapponese Ukita guardate subito come il cibo cambia il pane e la pasta vengono soppiantate dal riso c'è molto più pesce perché i giapponesi notoriamente consumano e sono anche bravissimi a cucinare il pesce e mentre la famiglia afroamericana palesemente si riempie di cose schifosissime ma buonissime allo stesso tempo come la pizza e il Burger King risulta sicuramente più interessante vedere quale è invece il cibo tipico di una famiglia del Cihad uno stato dell'Africa centrale e pensate che mentre la famiglia americana in media spende circa 300 dollari a settimana per il cibo questa famiglia del Cihad ne spende 1,23 di dollari a settimana le foto sono moltissime non posso mostrarvele tutte gentaglia però è interessante andare a vederlo trovate il link in descrizione come al solito prima di passare alla prossima notizia sulla quale vorrei la vostra opinione gentaglia gli alfieri della gentaglia di oggi per ricordarci che siamo tutti delle persone reali con dei bei musi come Matteo e Luca che ci mandano questa foto mostrano il mio logo e Luca si vanta giustamente di indossare la maglietta del signor fregacazzi with swag vi prego non utilizzate mai la parola swag era uno scherzo non fatelo dimenticate questa parola guardate qui man in black o qualcosa la corte di cassazione italiana con una sentenza ha deciso che andare a prendere il caffè mentre si lavora ad uno sportello a contatto con il pubblico non si può fare ed è in tal caso giusto il licenziamento questa storia risale a lontanissimo 97 periodo nel quale molti di voi non erano nati io non ero nato c'era la guerra di indipendenza negli Stati Uniti e l'elettricità ancora non esisteva più o meno più o meno nel 97 più o meno questa era la situazione l'uomo lavorava ovviamente a lume di candela ad uno sportello del credito emiliano ad un certo punto ha detto o più probabilmente pensato fuck this shit e se ne è andato a prendere il caffè perché tanto c'erano degli altri suoi colleghi agli sportelli però l'amministrazione della banca ha percepito la cosa come illegittima perché anche se c'erano degli altri sportelli aperti comunque la fila diventava più lunga e il processo di servire i clienti si rallentava perché non tutti gli sportelli erano funzionanti dato che l'uomo era al bar quindi era stato licenziato l'uomo ha fatto ricorso la cosa ovviamente si è risolta in pochissimo visto che parliamo del 97 e siamo nel 2013 però alla fine la Cassazione si è pronunciata e ha detto sì il licenziamento è legittimo perché la suddetta pausa visto che c'erano delle persone in attesa le deve allo stesso interesse di queste persone e non solo a quello economico della banca insomma tendenzialmente è anche un'offesa verso chi è lì e aspetta di ricevere un servizio questa cosa ha sollevato un sacco di polverone perché oddio ma il break è giusto non siamo mica dei robot e io non sono affatto d'accordo con le polemiche ora non so se è perché sono una di quelle persone che è ossessionata dalla cortesia e dal cercare di mettere al proprio agio il più possibile gli altri in qualsiasi situazione anche se mi stanno offrendo un servizio io caratterialmente tendo a cercare di metterle al loro agio e sto molto male quando una persona che dovrebbe essere gentile con me almeno per il fatto che sta svolgendo un lavoro non lo è mi fa sentire strano quindi sono perfettamente d'accordo con questa cosa e non solo ritengo la polemica che c'è attorno a oh mio dio la tazzina di caffè è importante siamo italiani l'italianità il grano duro d'orzo un segno del fatto che mentre la società italiana si spinge verso il cambiamento molto faticosamente inciampando continuamente ma continuamente alla ricerca di un possibile futuro che sia fatto di merito e di lavoro e tendenzialmente non di scazzo dall'altra ci sia un pesante fardello costituito da un casino di persone e quando dico persone intendo italiani quindi mi includo comunque in quelle persone non sto parlando dall'alto di una cattedra che offrono molto poco ma pretendono molto molto e da grande fan quale sono della filosofia del costante miglioramento una delle cose che adoro è il cercare quando vado a letto di sentire che ho dato al mondo più di quanto ho chiesto al mondo a parte quando i miei vicini iniziano ad ascoltare il reggaeton a tutto volume e a litigare in spagnolo perché non so cosa sta succedendo qui in quel caso, solo in quel caso sgozzo polli e porto le mie richieste in preghiera a Cthulhu altrimenti no comunque fatemi sapere cosa ne pensate voi gentaglia pensate che sia un atteggiamento troppo drastico pensate che sia poco drastico fatemi sapere quello che ne pensate nei commenti e questo è tutto davvero finalmente quello che avevo da dirvi per oggi dico finalmente perché finalmente è arrivato il weekend e non ci potete fare niente quindi ci vediamo martedì alle 18 lunedì è Pasqueta quindi di nuovo la prima cosa della quale volevo ciao 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 ciao